Alla fine, secondo me, non stiamo molto a pensare a queste cose. Come tutti gli anni, almeno in questi ultimi anni, la Juventus parte per vincere, come al solito, il campionato e per imporsi tutte le contraddizioni. Sappiamo che siamo una squadra da battere, ma allo stesso tempo sappiamo che non c'è niente di scontato. Siamo concentrati su questo campionato e su questa stagione squadra.